Immaginate che ci sia una carica qua e lui crea in questo punto un campo elettrico che se ne va in questa direzione, abbiamo capito questo, e il suo delimpetaio crea un campo elettrico dello stesso modo in questa direzione, perché nello stesso modo, perché la distanza è uguale, quindi il campo risultante è la somma di questi due ed è in questa direzione, però dovete vedere che la componente trasversale è quella che si cancella e invece si sta sommando, certo che questo rumore qua mi sta infassidendo, però devo tenere duro, allora io devo fare, c'è un pezzo che ho significato, devo prendere questo campo elettrico e prendere solo questa parte qui quindi devo guardare questo angolo e prendere solo questa parte qui, e quindi questo è coseno, che fare, sono anche abbastanza, una curiosità, come siete messi domani, anche domani? stanno facendo l'altro, silenzio, non fate rumore voi qui, allora, forse è in caso il pulire il disegno che è troppo congestionato, ehi 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 . C'è molto rumore sia qua che là che anche fuori Grazie Grazie Voglio che meditate su questo esercizio Non poco Allora immaginate che questo punto qua Quindi avete questo pezzo di calica qui Che creerà un campo elettrico in questa direzione Queste due frecce hanno lo stesso modo E quindi è evidente che io potrei scomporli Questa freccia la potrei scomporre in una parte Diciamo perpendicolare all'asse E una parte lungo l'asse Lo stesso di Casilla è l'altro Quindi è una componente lungo l'asse E una componente trasversale E' chiaro che questo e questo si compensano Invece questi due si sommano A rinforzarsi per dare quindi La risultante che se io disegnassi bene Potrebbe essere qui Quindi la risultante è la somma di questi due Che sono ovviamente uguali Quindi è due volte l'uno di questi Allora se questa è la distanza Il raggio di questo benedetto anello è r Abbiamo messo x uguale a 0 qua E quindi questa la chiamiamo la distanza x Questa distanza è r quadro più x quadro E quindi questa freccia qui per intenderci Cos'è? Questa freccia qui Se io scrivo il modulo di questa freccia Il modulo di questa freccia Il modulo di questa è la costante elettrica Che io non ho fatto dire con y0 Per la carica che chiamiamo dq La piccola carica dq che è qua su Che fa anche rime Diviso la distanza al quadrato Quindi evidentemente è questa Questo è il modulo di questo signore Qual'è il modulo di questo? Che è quello che in realtà ci interessa Quindi questo pezzo qui Questo pezzo qui E questo per il E il modulo di questo Per il coseno di quell'angolo Quindi coseno di quell'angolo Cos'è? Allora è x Fratto questa roba qua Quindi farei coseno di teta E quindi questo è La costante elettrica La dq Diviso ovviamente R quadro più x quadro Per il coseno che cosa ho detto che è? E x diviso Quanta la distanza E così Quindi Per ogni o due Quindi Il campo elettrico creato Da il due Come si scrive dirimpetai? D Rimpetai Così? Quindi questo è dq E questo è l'altro dq Quindi questa carica qua E questa carica qua Che torcicolo che ho Terribile Ok? Quindi due volte il contenuto Chiaramente io posso fare questo R quadro C'è qualcuno che memorizza E faccio un colore E questo non è X dq Diviso R quadro Più x quadro Alla Vedete questo Posso scriverlo Alla 2 All'esponente Alla 1 E questo alla 1 mezzo Quindi questo alla 3 mezzi Siete d'accordo? Quindi Va bene? Poi Io devo integrare Quindi qua Dovete immaginare Che sto facendo così Quindi sto stommando Dove in questo disegno R era la distanza Tra l'elemento Tra la sorgente E il punto matematico E qua in realtà C'è il coseno Cioè questa è la componente Del campo elettrico Che mi serve Questo esercizio D'accordo? Quindi io devo Integrare adesso Ho già fatto Questi due qui E integro Quindi il campo elettrico Cioè il 2Q Ovviamente ho dimenticato Anche la costante elettrica E2 Questo qui Potete pensare che è Una carica Moltiplicata per 2 Perché c'è il diritto D'accordo? Quando integro su tutto Anello Su tutto l'anello Questo mi darà Mi darà La carica totale La costante elettrica La carica totale Questa carica è il suo opposto Poi sommo questo è il suo opposto Poi sommo questo è il suo opposto Eccetera Sto continuando Finchè non esaurisco La carica complessiva D'accordo? Quindi C'è la carica totale In 2 non c'è Esatto Allora Scrivetela così Che è più appariscente Più fico Quindi il campo elettrico Salute E' uguale A Ke A XQ Per R al quadrato X al quadrato Alla meno 3 mezzi Anzi Prima di fare questo Continuiamo Perché voglio fare l'approssimazione E quindi Sostentando un passato Voglio adesso imporre l'approssimazione Che X sia molto minore di R Per far questo Voglio Predisporre la formula Voglio manipolarla In maniera che Mi è facile Capire cosa sta succedendo Allora Io posso fare Intanto Ho questo Che ha 3 mezzi E scrivo R quadro Più X quadro D'accordo? Però voglio mettere Dentro la parentesi quadra Che verrà tutto Elevato a 3 mezzi Voglio mettere in evidenza R quadro Quindi faccio così Metto R quadro Uno più X quadro Diviso R quadro D'accordo? C'è qualcosa che non mi sta convincendo Non voglio andare avanti troppo E trovarmi un errore Quindi Da qualche secondo Mi fermo un attimo Per controllare Il mio appuntino Non vorrei fare un errore Allora Finora Non ho fatto niente di particolare Quindi O K E X Q Porto fuori questo R quadro Quindi avrei un R cubo Giusto? E poi Mi rimane Questa roba qua Che è 1 più X quadro R quadro Alla 3 mezzi Sotto Mi sta enermosendo questo R cubo Quello che mi sta Non mi piace Andiamo avanti Vedere dove mi porta Adesso io voglio Per ora Non ho ancora fatto l'uso Della approssimazione Ho semplicemente Manipolato la formula Però L'ho predisposto In maniera da usare Questa formula Quindi Devi usare questa approssimazione Quando X È molto minore di R Quando X È molto minore di R Allora Questa parte qua Per ora Lo scrivo così In maniera ancora Non ho ancora fatto L'approssimazione Ma lo sto per predisporre Non l'ho finito Il passaggio Diviso R cubo D'accordo? E scrivo questo Come 1 più X quadro Diviso R quadro Alla meno 3 mezzi Ok? Adesso voglio usare questa approssimazione E sostengo questo Che 1 più X quadro Diviso R quadro Alla meno 3 mezzi Potrei espandere in una serie E sostengo che se io mi fermo Nei primi due termini della serie Ho 1 meno 3 mezzi X al quadrato Diviso R quadrato Poi ci sono degli altri termini Questo si chiama Non so se conoscete Questo teorema di analisi Delle serie Avete visto o no? Ok? Quindi io sostengo Che questa roba È circa uguale Cioè sto usando adesso L'approssimazione Che X è minore di R Molto minore di R E questo è uguale K è XQ Questo diviso R cubo Che mi puzza Devo vederlo E tengo questi pezzi qua Quindi è 1 meno 3 mezzi X al quadrato diviso R al quadrato E poi c'è qui E poi c'è qui E poi c'è qui In quest'altro pezzo qua Che trascuro Perché questo È molto più piccolo Di X diviso R Ok? Quindi io trascuro Questo pezzo Questo pezzo lo trascuro Cioè è come se io dicessi Se X è molto minore di R Questa roba qua È praticamente R Però non è proprio R C'è quel Quindi io Trascuro questo E mi rimane questo pezzo qua Non è proprio 1 Però di fatto è così piccolo Che lo posso ignorare E vedete che ho un campo elettrico Ho un campo elettrico Che è proporzionale a X E questo è quello che voglio Ma non mi piace il fatto Che ci sia R in cumola Sopra Quindi fatemi guardare un attimo Dimensionale è corretto però Dimensionale è corretto Giusto? Perché un campo elettrico Adesso sto ragionando Perché da fuori Non ho fatto il conto Prima di venire qua L'ho fatto l'anno scorso E Però Sto pensando a voce alta Dunque Questo è dimensualmente corretto? Sì Perché un campo elettrico Io sto cercando di calcolare Il campo elettrico Deve essere A parte questa benedetta Costante elettrica Che è dovuta Al sistema internazionale È una carica diviso Una lunghezza al quadrato E qua Ho una lunghezza al cubo Però C'è una lunghezza sopra Quindi Dimensionale Questo è corretto Ok? E Mi darebbe anche La dipendenza Da x E quindi Quando io vado a farmi La forza di Lorez Mi ritrovo Che la forza di Lorez È uguale A Meno K X Dove La K È uguale A questa combinazione Di parametri Perché metterei La Q La Q Della particella Che sto mettendo qua Ricordate l'esercizio Avevo una Q grande Qua E mettevo qui Una carica Meno Q Mettevo qui Una carica Meno Q Quindi la forza sulla carica È Meno Q Per E E quindi Facciamo i passaggi Perché così Non mi perdo nemmeno io La forza di Lorez È Meno Q Per E Quindi sto prendendo Quella espressione di E O O Meno K E Q Diviso R E c'è la X Ho trascritto tutto X Q grande R cubo K E D'accordo Poi c'è il Meno Q E chiamo questa roba qua K E quindi mi ritrovo La mia legge E quindi Prevedo Guardando questa Formuletta qua Dico La forza dipende da X proprio come una Molla ideale Addirittura c'è una Forza di Chiamo E quindi La particella Carica Andrà avanti e indietro Di moto Armonico D'accordo? È quasi armonico Perché tutto questo È una serie di Approssimazioni Si appossima molto bene A un moto armonico Puro A un moto armonico vero Se X è sufficientemente piccolo Voglio che lo approssimi meglio Scelgo una X più piccola Cioè posiziono questa carica Qua per esempio Non andrebbe bene Con la formula Perchè X è troppo grande Rispetto a R Quindi quella formula Per essere applicabile Al nostro esperimento La carica deve essere fatta Partire da qua Da una X che è molto piccola Rispetto a R Qui andrà avanti e indietro Di moto quasi armonico Con magari una precisione Non so Una parte su 10 Voglio una precisione migliore Allora la faccio partire da qua Se la faccio partire Da una distanza sufficientemente piccola Approssimerà molto bene Sempre meglio Più piccolo lo faccio partire Più da vicino a zero Lo faccio partire Approssimerà sempre meglio In moto armonico Ma prima di dire Che questa è la risposta Fatemi controllare Perchè il conto Perchè il conto Vabbè Ma si Sarà questa Verificate Poi se non siete d'accordo Come lo direte allorare Non sono mica dio A me è venuto così Va bene? Quindi capite come dovete usare questo teorema Cos'è? 1 più x alla n è circa uguale a 1 più nx Dove n non è detto che sia un naturale Può essere un numero intero Tipo meno 1 E può essere anche un numero razionale Tipo meno un mezzo O in questo caso Era meno tre mezzi D'accordo? Questa approssimazione E' molto utile in fisica Già che ci sono E parliamo di anelli E fate anche questo esercizio qui Fate un anello Il solito anello Questo è il solito anello Ma questa volta immaginate Che ci sia una corrente Che circoli nell'anello Qua c'è una corrente che esce E qua c'è una corrente che entra Ok? Quindi è un anello Un anello che è percorso Percorso da corrente Da una corrente I Ed è percorso in questo modo Ok? Sta uscendo dalla lavagna e entra Questo è l'asse Avete già usato Biosavar per calcolare il campo magnetico Al centro della spira Calcolato In un punto che l'ungolasse Ma non al centro Quindi di nuovo Questa è la distanza Tra l'elemento di corrente Che è quassù A questo è l'elemento corrente Di ripetaria C'è altro tuo corrente Allora Com'è il campo magnetico Questo punto creato da questa corrente Allora Mi sembra che l'avete già fatto Che si disugna un altro giorno Dovete usare Biosavar Quindi dovete fare Il prodotto vettore Dall'elemento di corrente Per il versore Che va dalla sorgente Al punto matematico Quindi questo è il versore Udr DL sta uscendo dalla lavagna E quindi vedete che la B In questo punto È un campo magnetico Che è Lo disegno sufficientemente alto È una cosa del genere Questo è il campo magnetico Il contributo differenziale Il campo magnetico Dovuto a questo elemento di corrente Vedete che è a 90 gradi Il suo dirimpettaio Se io riuscisse a disegnare Con una certa precisione È un contributo Che è dello stesso modulo Ma se io disegno S bene È un campo che è così Dello stesso modo E dovrei avere La componente per di qua E la componente per di qua Questa freccia Verrebbe scomposta Esattamente Dello stesso modo E questo Si compensa In quello Invece Avete due contributi Quindi se il disegno Fosse fatto bene Per simmetria Dovrei avere una cosa del genere Quindi Faccio in colori Le due frecce Così è chiaro Visto che Troppo ho scelto Un punto Dove le frecce Sono così Dici Questo qua Facciamo in rosso E questa è la freccia Associata A questo signore qua Che è una X Scusatemi Una X Quindi questa è la distanza Di questo punto Dal punto magnetico E questa è la freccia Pertinente Invece Questa corrente Quasi che esce A questa distanza E la freccia È questa Ricordo? Quindi ho questo lì Ho questo lì Che si sommeranno assieme Quindi La domanda dell'esercizio È calcolare Capite qua Capite dalla simmetria Che il campo magnetico Sarà Un campo magnetico Sempre lungo asse I punti che stanno sull'asse Il campo magnetico Sarà di là Quindi Quello che stiamo disegnando Adesso Se questa è la vostra spira Visto un po' Impospetticamente La linea di campo Associata Ai valori del campo magnetico Che sto calcolando In questo esercizio È quella famosa Che è proprio lungo l'asse La corrente sta girando così Questa è la linea di campo Che stiamo discutendo Quindi Per i punti vicini Il campo magnetico Sarà intenso Per i punti lontani È sempre nella direzione Lungo l'asse Ma si indebolisce Un punto Che è di qua Il campo magnetico Comunque sarà in questa direzione Come dovete convincere Io voglio sapere Qual è il campo magnetico Qua? Quanto è? Quindi dovete fare Quella integrale Dovete fare la somma Di questi Sappiatelo fare C'è su quasi tutti i libri Di fisica Quindi È uno degli esercizi Che volete voi sapere Quindi abbiamo anelli Anello Voglio che sappiate fare Il campo elettrico E per quello E per quello Ho anche il potenziale Il magneto statica Voglio che fate Punti Punti sull'asse Perché non sono un salico Il campo magnetico Di nuovo Qua Questa componente Chi è? Se questo è l'angolo Di nuovo Il coseno dell'angolo È X Diviso Questa distanza Quindi Questa è la componente Per di qua Quindi è questo Moltiplicato Per il coseno Se ne sono due Fate il conto Per la protesia Quelli sono gli anelli E i dischi? Sapreste fare i dischi? Il disco di un campo elettrico Il campo elettrico di un disco carico uniformemente Com'è la strategia? Se questo è l'anello Questo un po' prospetticamente E questo è l'asse E questo è un punto Immaginate quindi di fare un integrale Dove la carica Considerate una corona circolare Perché è una corona circolare E essenzialmente qui vedete un anello Quindi se sapete fare l'anello Prendete la risposta dell'anello E trascrivete in termini della corona circolare Chiaramente Quindi il campo elettrico In questo punto Creato dalla corona circolare Dipende ovviamente Dalla carica della corona circolare Allora La carica della corona Chiamiamola così Corona Cosa sarà? Se il disco È un disco Carica Q complessivo E la carica è spalmata in maniera Uniforme E chiamiamo sigma La carica al metro quadro Per unità di area E immaginate che la sigma sia costante Allora Qual è la carica che è qua dentro? La carica della corona circolare È sigma zero Moltiplicato Per l'area della corona circolare E l'area della corona circolare Sapete ormai com'è È due pi greco Il raggio della corona circolare Per lo spessore della corona circolare Ok? Quindi in realtà stiamo facendo colone Quindi non è differenziale Diciamo proprio incrementi Quindi farete la schima Farete una sommatoria E poi Dovete integrare Dovete integrare come? Ovviamente dalla corona circolare più piccola A quella di raggio massimo Ok? C'è la versione magnetica di questa C'è la versione magnetica di questa Dove sperimentalmente Questo è anche stato fatto Credo di un certo Roland Però dovete controllare Casomai domani controllo E vi dico il nome Questo signore ha preso un disco di plastica Caricato Poi l'ha fatto ruotare il disco Quindi facendolo ruotare Carica in movimento Sono una corrente elettrica E quindi il disco ruotato Creava anche un campo magnetico Oltre che elettrico Perché era carico Quindi voi dovete immaginare Un disco Se volete Che sta ruotando Quindi avete una certa carica D'accordo? Una certa carica D'accordo? Ma questo disco sta ruotando? Questo forse lo trovate sui libri Ne parlo brevemente domani Dopo che ci ho pensato un po' Il nome del tipo E sperimentalmente Come è stato fatto Quindi voi avete questo disco Visto di faccia E questo elemento di carica Quando fate ruotare il disco Con una certa velocità angolare r La carica che è al centro del disco Non si muove L'asse di rotazione è questo qui Questa carica qua Avrà una certa velocità Questa carica Avrà una velocità che è metà Perchè la distribuzione Delle velocità E' una cosa così Non vi pare? D'accordo? Quindi Questa corona circolare qui Qual è la corrente? Dipenderà da quanta carica C'è nella corona Ma dipende anche Dalla velocità Con cui queste cariche C'ergirano Queste cariche qua fuori Sono di più Perchè la corona è più grande Ma hanno anche una velocità maggiore Quindi ogni corone circolare Ha la sua corrente La singola corone circolare È assimilabile all'anello Siccome l'anello L'avete saputo calcolare Cercate di immaginare Come sarebbe Del disco Con però L'accorgimento Che le varie corone circolari Questa qua Che corrente sta girando? Non la corrente I Ma la corrente Che è pertinente al fatto Che avete questa carica Che sta muovendosi Con una velocità angolare Omega Cioè con una velocità Quindi uno deve convertire Questa carica fatta da ruotare In una corrente Sì o no? Pensateci un attimo Quindi Altro è Il disco Abbiamo il disco Punti sull'asse Questo è un altro Che potrei dare A uno scritto onorale Quindi è nel vostro Repertorio degli esercizi Il disco Nel caso D'elettrostatica È un disco carico Un disco carico Quindi voglio il campo elettrico Sull'asse E anche il potenziale Per quello Il calcolo del potenziale In genere È più semplice Non vi pare? Se io vi chiedo Se questo è il famoso anello Che abbiamo fatto poco fa L'anello poco fa E questo era il punto Abbiamo visto Che il calcolo del campo elettrico Dovevo tenere conto Della componente Che mi era utile Dovevo avere Il coseno Invece Se io vi chiedo Il potenziale qua Non è un vettore Il potenziale È una somma Di numeri Che avranno dimensioni C Sì Ma non è un vettore Invece il calcolo Quindi Del campo elettrico È un calcolo Un po' più complicato Perché Devo veramente Fare il calcolo Si D'accordo È un opportuno Integrale Ma questa qua È la distanza Questo mi da Questa freccia Ma se mi interessa Quello Devo tenere conto Dell'angolo Invece Il potenziale Non funziona così Quindi In genere Vedrete Che il calcolo Del potenziale Eletro statico Del anello Del disco È più semplice Da fare Una volta Quello Per ottenere il campo elettrico Basterebbe E fare la derivata E cambiare il disegno A meno che Il docente non vi chieda Di calcolare Direttamente Il campo elettrico Perché è un pochettino saldico Dipenderà Dal contesto No? Quindi dovete esercitarvi A saper calcolare Entrambi Direttamente Quindi Disco carico In Rotazione Il bastone Il bastone Che l'ho fatto prima No? Questo è il bastone Un'asse Era questo Questo è il più semplice Mi pare che sia semplice No? Ovvio Che il potenziale qui È semplice Calcolarlo Lo sapete fare? Se io chiamassi qualcuno Di voi fuori A farlo subito Lo sapete fare? Tutti che si fanno finta Di scrivere Nessuno mi guarda in faccia Lei saprebbe Venere fuori A fare il calcolo? Perché Non lo sa fare? Il calcolo del potenziale Lo sapete fare? Questo è facile no? Qua Prendete E dividete In tanti segmenti Giusto? Quindi la carica Q È uguale A un'eventuale Lambda Che è Suppongo che il bastone Il carico uniformemente Che è La lunghezza Come l'avevo chiamato? L Quindi Qual è il potenziale In questo punto Creato da questa carica? Qual è il potenziale In questo punto Creato da questa carica? Non fate altro E questo male Quindi Questo qui Come avevamo messo le quote Era forse x uguale a 0 Qua Non ricordo più Dove l'avevamo messo? Lì Qua? Dove ce l'ho messo? Questo x uguale a 0 E il bastone lungo L E quindi Questo punto È x Quindi questa distanza qua È x-L D'accordo? Quindi Io farò La solita costante elettrica 1 su 4 Pi greco Epsilon 0 Questa Q Quanto è questa Q? Questi segmenti Sono larghi Delta x Questa è la delta x1 Questa è la delta x1 Questa è la delta x1 Perché questo è il iesimo segmento Questo è il primo E questo è l'ennesimo Perfitte? No? Farò una stima Quindi Avete che il potenziale Nel punto x È uguale alla sommatoria Di Della carica della carica che è, ho usato lambda 0 quindi è lambda 0, delta x i quindi questa qua è la carica la carica che qui, in questo magari lo faccio in rosso la carica che qui, quanto è? la carica che qui, cioè nell'iesimo segmento è uguale a lambda 0 per la lunghezza dell'iesimo segmento quindi questo è, facciamo così, così li conoscete faccio per tutti i passaggi, qui diviso Ri questo è il potenziale, è la somma dei potenziali elettrostatici creati da tutte le cariche ovviamente più C, ma il fatto che questo bastone è rinchiudibile da una scatola di dimensioni infinite normalmente si pone C uguale a 0, non la si scrive e si sta essenzialmente dicendo che è all'infinito dove non ci sono le cariche, le cariche sono la scatola, all'infinito state mettendo v uguale a 0 quindi questo concettualmente è il potenziale dostatico in quel punto, è la somma dei potenziali di tutte le cariche, però adesso specificate questo è uguale, vabbè, 1 su fatto più greco x è 0, ma è detto questo sistema internazionale questo è lambda 0 delta xi, perché quello è la cariche e la distanza dell'iesimo dalla carica dal punto matematico, come la indiciamo? la indiciamo con, forse la scelta di mettere x uguale a 0 non erano più felice, questa è la distanza qua e quindi cos'è? x, vedete che non erano i più felici? forse è una, quale potrebbe essere una scelta più intelligente? ho una idea migliore, vediamo un attimo direi di mettere, benché il punto matematico qua che ne dite se chiamiamo questo x uguale a 0? così la carica più vicino è a una distanza che adesso specificano, cioè propongo di fare anzi è interessante questo fatto, perché vedete che ho il problema di scrivere la distanza della carica iesima dalla posizione del punto matematico allora è chiaro che, io ho un po' qui chiaro nel disegno quale è la distanza ma c'è chiaro di trovare un modo per scriverlo per poi trovarne un integrale, no? allora forse la scelta migliore è di x e questo è il bastone con i suoi segmenti forse la scelta migliore, questo è l'asse è che dove c'è il punto matematico metto questo x uguale a 0 quindi questa distanza qua, la distanza del punto matematico da questo estremo del bastone la chiamo, che so, a e la lunghezza del bastone la chiamo, come l'avevo chiamato l ok? allora è evidente che questa carica qua sta alla distanza l più a questa qua sta alla distanza a la iesima, questo signore qui, la chiamiamo alla distanza x d'accordo? quindi ho la sommatoria, cioè il potenziale nel punto p ovvero il punto x uguale a 0 è uguale, d'accordo? 1 su 4 pi greco e y 0 ho la sommatoria di lambda 0 a delta x i diviso la distanza da questo ma che chiamo x? cioè chiamo questo l'asse x chiamo questo l'asse x e quindi questo x uguale a 0 questo è in una certa posizione x vedete che aver scelto x uguale a 0 qua è più naturale siete d'accordo? che averlo messo qui non è stata la più felice mi trovo il problema pratico, molto pratico, concettuale non c'è un problema è chiaro quello che bisogna fare il problema è scriverlo giù in maniera che poi si riesce a individuare i risultati in maniera semplice con una matematica trasparente e quindi questo diventa x i e vedete che questo esce fuori dalla sommatoria quindi ho lambda 0 diviso 4 pi greco epsilon 0 ho la mia sommatoria che è la mia delta x i diviso la x i ed è evidente che quando faccio il numero di segmenti arbitrariamente grande e molto sottili mi vedo l'integrale in faccia era molto più contorto quello che scrivevo se mettevo di scuola a 0 qua quindi vedete serve un po' di creatività negli esercizi un po' di esperienza e basta che uno non li faccia per un anno e fa presto a dover riprendere infatti c'è un famoso detto il problema degli esercizi fisica è che non rimangono risolti cosa vuol dire? che uno studia l'esame sa fare un solo repertorio degli esercizi passa un mese e poi non sa più fare gli stessi esercizi lo stesso valore per 800 se passa un anno e non si arriva non rimangono risolti cioè dovete ogni volta pensare non sono esercizi che si possono così una capita tracca quindi questo diventa che v nel punto x uguale a 0 che dov'è il punto matematico è 1 su 4 più greco y0 l'integrale ovviamente c'è la lambda 0 che sono identificato la lambda 0 c'è x su x e gli estremi di integrazione sono dalla x più vicina che è questo signore qua che è come l'ho chiamato la distanza a dalla distanza a nella altra stammina insola alla distanza maggiore che è tutta questa che è a più l e quindi voi avete lambda 0, 4 più greco, y0 logaritmo naturale di a più l diviso a ok? questo è il potenziale in quel punto là è chiaro che se io vario la posizione del punto sto variando là sto variando là quindi questo in realtà io potrei pensarlo come il potenziale è funzione di a qual'è la variabile qua? la variabile è la posizione voglio variare la posizione del punto che calda io voglio variare la posizione del punto quindi io sto variando a se voglio sapere come varia il potenziale a seconda di dove piazzo il punto matematico quindi io sto variando a quindi dovete vedere questo come una funzione di a va bene? quello che io ho chiamato a va bene pensateci un po' a questo a questo punto qual'è il campo elettrico? in quel punto il campo elettrico è uguale visto che il campo elettrico in questo punto è se questa è una distinzione positiva il campo elettrico è una freccia che è in questa direzione ma cos'è il campo elettrico? il campo elettrico è la derivata di v cambiato di segno la derivata di v rispetto a cosa? cioè voi dovete pensare di spostare il punto matematico di un pochettino e vedere l'effetto che fa sul potenziale elettro statico quindi dovete fare la derivata di questa funzione qua rispetto alla variabile che state variando ok? che in questo caso vale a dovete pensare di spostare il punto è chiaro? cos'è il potenziale? cos'è il campo elettrico? il campo elettrico è la derivata che avete insegno quindi per sapere la derivata cosa dovete fare? spostarvi un pelo e capire come cambia se spostandovi da qua a qua vedete che il potenziale scende allora vuol dire che il gradiente è di qua e il campo elettrico è di là se invece spostandovi da qua a qua vedreste se vedevate che il potenziale cresceva il gradiente era di là e il campo elettrico sarà di qua quindi il campo elettrico per sapere cos'è il campo elettrico dovete variare la variabile scusate il gioco di parole ma è così dovete variare il potenziale come? variando il parametro dalla quale dipende la cosa dipende da a quindi dovete fare la derivata di v rispetto a a cambiare di segno perchè il segno? perchè i fisici mettono il segno che dove sono? meno 10 e il campo elettrico come lo calcolereste? questo lo calcolandolo facendo meno la derivata e il campo elettrico cosa cambierebbe in questo conto? cosa cambia in questo conto? il campo elettrico se fate il conto diretto in campo elettrico avete la distanza al quadrato non vi vale? non qua qua giù questo l'avevamo cassato beh la formula concettuale è questa quindi vedete che il campo elettrico quando l'appunto matematico è nella posizione a è uguale al quadrato al quadrato fate la verifica e se io vi chiedessi il campo elettrico creato dal bastone sull'altro asse sempre di carica distribuita in maniera lineare omogenea e io vi chiedo di calcolare non lungo questo asse il campo elettrico ma lungo questa questa asse simmetriale se questa è una carica positiva dall'altra parte avete una carica positiva quindi è abbastanza evidente perché in questo emisfero in questo bastone guardate i punti sopra e i punti sotto d'accordo? punti sopra e punti sotto questo è un bastone non è un piano è un bastone allora in questo punto il campo elettrico sarà in questa direzione per simmetria no? in questo punto il campo elettrico sarà in questa direzione quindi attenzione a questo e io vi chiedo il campo elettrico in questo punto qua come fate? di nuovo dovete fare una sommatoria avete questi contributi qua questi due delitetae poi avete questi avete questi fate il calcolo fino a questi qua il bastone si esalisce qui quindi il bastone ha una certa lunghezza l e dovete integrare opportunamente chiamate questo punto qua x uguale a 0 questo è il punto x uguale a 0 questo è il punto x uguale a 0 e dovete integrare in questa direzione e anche in questa direzione quindi voglio il campo elettrico di un bastone meditate su questi esercizi trovate su questi libri bastone due assi punti come posso scrivere? punti sull'asse del bastone e magari disegno così questo è così il tendo questo punto qua e punti qui sull'asse perpendicolare al bastone passante per il cento quindi se questo è il bastone io voglio il punto più grande particolare fate sia il questo è elettrostatica non c'è un problema analogo al magnetostatico qua vedete c'è la versione magnetica di questi due qua è solo elettrico è elettrostatica e quindi fate non solo il calcolo del campo elettrico ma anche il calcolo del potenziale campo elettrico e potenziale questo qua è il filo infinito abbiamo usato la legge di Gauss abbiamo usato la legge di Gauss per calcolare il campo elettrico di un filo voi potreste prendere questo bastone qui questa versione qua ed estendere il bastone prendere il risultato e fare il limite per la lunghezza del bastone che diventa infinito provate quello vorrei avere il campo elettrico calcolo diretto e il potenzialetto statico calcolo diretto dovete fare gli integrali domani magari a pozzo o qualcosa fate una lista di esercizi che dovreste essere in grado di affrontare li trovate sui libri faccio una bozza quindi voglio questo è il filo filo infinito indefinito facciamo così indefinito filo si intende retilineo quindi voglio campo elettrico e che notazione sto usando il filo ma c'è anche la razione magnetica in cui avete la corrente che circola abbiamo usato ragionamenti di simmetria e la legge di Ampere per dedurre il campo magnetico di un filo retilineo sapete già la risposta sapreste ottenerla direttamente usando la legge Biot-Savart? cioè se questo è un punto della lavagna e volete sapere il campo magnetico qua cosa dovete fare? beh c'è sicuramente questo contributo di corrente e questo contributo di corrente va di là il suo versore U di R va di qua e quindi vedete che Dv è così U di R è così quindi il campo magnetico qua sta rientrando ma c'è anche questo contributo e quindi questo è il versore U di R DL è di là e anche questo entra quindi il contributo in questo punto il campo magnetico in questo punto creato da questo contributo è entrante e il contributo dovuto a questo? questa è la direzione della corrente questo è il versore U di R come vedete entra anche lui tutti questi contributi contribuiscono a un campo magnetico in questo punto sempre entrante cioè i vari contributi venuti da questo infinitesimo questo è la corrente infinitesima questo è la corrente infinitesima questo è la corrente infinitesima tutti quanti entrano quindi non c'è nessun dubbio sulla direzione di B ma qual è il modulo? allora chiamate questo punto x uguale a 0 e cercate di capire come varierà in questo punto il modulo creato da questo signore rispetto a quando è considero questo cosa sta cambiando? ovviamente è la distanza no? è la distanza che sta cambiando e c'è anche la dipendenza dal seno dell'angolo non vi pare? perchè il prodotto Biot-Savart Biot-Savart mi dice che devo fare il prodotto vettore così la dipendenza dalla distanza è quello che uno si aspetta perchè viviamo in un mondo tridimensionale la dipendenza va 1 sulla distanza al quadrato per un contributo pliforme un contributo molto piccolo è chiaro che il campo magnetico in questo punto creato da una sorgente lontano diminuirà con la distanza 1 sulla distanza al quadrato ma c'è anche la dipendenza angolare perchè il modulo di questa roba è il modulo ZL d'accordo il modulo di UR è 1 ma c'è questo periodo seno dell'angolo quale angolo? guardate il disegno qual'è l'angolo? è questo angolo qua come funziona il prodotto vettore? qual'è l'angolo? è l'angolo di cui dovete far ruotare il primo per andare sul secondo, giusto? quindi l'angolo è questo qui l'angolo è questo l'angolo è questo l'angolo è questo quindi quando questo è molto lontano com'è l'angolo? l'angolo di qua va verso pi greco di qua l'angolo tende a zero come vedete dal disegno, no? quindi si tratta di scrivere il contributo evidenziando l'angolo e poi integrando l'angolo opportunamente provate a guardare sui libri questo integrale tutti i libri lo riportano e dovresti essersi in grado di fare questo